E' tutto molto chiaro, sono rimpiazzato da una versione di me più giovane e sfacciata. Papà, stai attraversando il classico complesso di Oedipo, ti ricordi la storia di Oedipo o no? Ma forse i 5 dollari mi rinfrescherebbero la memoria, cara. Oedipo uccise suo padre e sposò sua madre. E chi sgancia per un matrimonio così? Sto dicendo che ti senti minacciato da Bart, ma sta solo nella tua testa. Hai ragione, ma per mettermi al sicuro sarà meglio che io lo incateni. La tua reazione è smoderata. E la tua è troppo moderata. La seduta è chiusa. Questa seduta è aperta. Addio! Al diavolo!